Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi farò il rapporto girando i cento trigger in quattro minuti, ma ho deciso di filmarvi anche, di far vedere la versione lunga perchè l'altra volta non avete chiesto in chiesa in chiesa in chiesa in chiesa in chiesa in chiesa quindi noi ciao 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 Adoro 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 ecco il dottorio il 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 questa è la mia custodia per i pennelli mi piace tantissimo sognette, depilatore per il viso sognette, depilatore per il viso sognette, depilatore per il viso questo è un acqua di rosmarino sognette, depilatore per il viso 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Prash ... ... ... ... Grazie. 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 Stamattina stavo cercando di pettine a minabelli e questo fantastico pettine di altissima qualità si è rotto. A metto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ok, basta. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.